Che cos'è questa, eh? Un altro colpo di Tarantino Perché non portiamo tutti i soldi alla prima consegna? Stanno studiando piano per portare i soldi qui No, non mi fido di loro Noi glieli facciamo sparire Lo cerco di indirizzare il cliente verso la 9 mm Però lo sai come sono fatti i negri, non riesci a farli ragionare C'è chi però Domani a mezzanotte Con Chevrolet un anno straordinario La piccola Spark oggi da 7.600 euro per tutti E sulle versioni GPL 30.000 km di GPL gratis In più furto incendio gratis 10 anni e interessi zero Cruise, la berlina sportiva a quattro porte più venduta in Italia Il puro stile Chevrolet anche negli equipaggiamenti di classe superiore Tutto di serie, da soli 15.500 euro Spark e Cruise, due offerte da mettere in agenda Se hai la pelle sensibile, molte cose possono irritare il tuo viso La rasatura non dovrebbe essere una di queste Ecco perché Gillette Series Gel offre una performance straordinaria Anche per chi ha la pelle sensibile Approvato da Ideco Gillette, performance incredibile Anche sulle pelli sensibili Ecco, così è entrato Zanetti L'arbitro neanche l'ha bonita Fatto bene, ci ho buttato Che partita hai visto? Io l'ho vista su Premium Ma te t'hanno raccontata No caro, l'ho vista su Premium anch'io Ed era pallonetto Il calcio è la tua passione? Con Premium e tu a 19 euro al mese E se ti abboni anche a Cinema e Serie TV Fino a settembre sono gratis Io non me la vedo Ah, neanche io E comunque era a farlo Chiamalo 199 303 404 Incredibile Che bello Scatta una foto con la fotocamera di Nintendo DSi E impara a copiare il soggetto Con Art Academy Solo su Nintendo DS Sono tornato in forma con i prodotti di fitness E i consigli di G Cooper Che ho trovato su Mediashopping.it Forte questa t-shirt L'ho ordinata su Five Store Dove c'è il meglio del merchandising targato Mediaset Adoro il cinema e le serie TV E collezioni DVD dei miei film preferiti Dai successi più recenti Ai grandi classici Cercavo una TV per il digitale terrestre E ne ho trovata una bellissima A LED Ultrasottile E ad alta definizione Risparmio soldi Tempo E code Tutto ciò che ordino mi arriva comodamente a casa Sto tranquillo Perché decido io come pagare Se mi occorre assistenza C'è il call center attivo a qualsiasi ora Comodo Sicuro Conveniente Mediashopping.it Lo shopping a casa tua Americano Via, 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 via Prende il via SMS Squadra molto speciale Con Enzo Salvi E vari altri specialisti Un poliziottesco Che vi colpirà Molto Ogni domenica alle 14 SMS Messe